Una saccatura nord-atlantica dalla Francia si sposta verso l'Italia. Il sistema frontale sarà seguito da masse d'aria più fredda ma ancora instabile, di origine artica marittima. In Toscana sabato 23 gennaio, nuvoloso molto nuvoloso, con piogge sparse, quota neve intorno a 1.000-1.200 metri, nuovo peggioramento in serata. Burrasca di libeccio ponente sulla costa centro-settentrionale sui rilievi. Mari molto mossi o agitati a nord dell'Elba, temperature in calo. Sul territorio provinciale molto nuvoloso, con piogge anche di forte intensità, schiarite dal pomeriggio ma nuovo peggioramento in serata. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 7, massima 11 gradi. In Valle del Serchio, minima 7, massima 10. A Via Regge sul litorale, minima 9, massima 12 gradi. Domenica ancora molto nuvoloso, con piogge, miglioramento dal pomeriggio.